Ed abbiamo riso di lui, perché era diverso da noi, non abbiamo pensato se lui era meglio di noi, non abbiamo capito che lui era meglio di noi. Sì, quando quella sera arrivò, lui sorrise a tutti però, non ci fu nessuno di noi che lo guardò, e pensare che lui morì, morì per noi. Ed ora voi chiedetemi chi era lui, dopo duemila anni voi, dopo duemila anni voi, non sapete ancora chi è. Chi era lui, dopo tutto quello che lui ha fatto per noi. Ed ora voi chiedetemi chi era lui. Dopo duemila anni voi, dopo duemila anni voi, non sapete ancora cosa ha fatto lui. Non sapete ancora cosa ha fatto lui per noi, lui per noi, per noi.